Impossibile svolgere un attack con mezzo di contrasto all'ospedale di Sulmona, almeno alcune tipologie. Il problema era esploso questa mattina quando alcuni utenti hanno bussato alla porta del tribunale per i diritti del malato. Si tratta di un particolare tipo di esame che costringe i pazienti ad attendere per le carenze di personale o, nella peggiore delle ipotesi, a spostarsi verso altre strutture. Alcuni utenti sono stati perfino rimandati a casa in attesa di nuova convocazione. Da un lato abbiamo le preoccupazioni dei pazienti, soprattutto dei malati oncologici, cui eventuali ritardi nella diagnosi potrebbero acudizzare la patologia, aggravare anche in modo irreversibile il quadro clinico. Dall'altro lo sconforto del personale sanitario ridotto all'omicino da 12 a 2 unità tra Casteldisangro e Sulmona, spiega Catia Puglielli dal suo TDM. Mi chiedo se quando ci si siede a certi tavoli si è consapevoli e informati della reale situazione ospedaliera. Mi chiedo altresì se a fronte di promesse ci sia la contestuale richiesta di una programmazione con date specifiche per la risoluzione dei problemi, conclude Puglielli. La musica non cambia, tant'è che prosegue la strutturazione della protesta per il prossimo 13 maggio.